ciao amici della family oggi siamo qua in compagnia di diletta che è la responsabile dell'animazione per quel che riguarda il campeggio pappa sole in toscana dove siamo stati in questi giorni e niente facciamo a lei alcune domande per aiutarci a capire bene come si svolge i servizi di animazione in particolar modo quelli per i bambini all'interno di questo bellissimo campeggio diletta spiegaci un po cosa fanno i ragazzi quali sono i programmi gli orari come si svolge un po l'animazione sia per adulti ma per bambini allora per i bambini diciamo la suddivisione viene fatta su tre fasce di età principalmente noi non lo chiamiamo mini club ma lo chiamiamo kids club la fascia di età che va dai 4 ai 12 anni perché ci sono attività che tutti i bambini possono fare insieme niente quindi 4 12 poi i bambini vengono divisi in due altre due fasce di età in base all'attività abbiamo il mini club che per noi comprende i quattro e gli otto anni e lo junior club che invece comprende i nove e i dodici anni questo perché i bambini dai quattro otto hanno un'esigenza completamente diversa dai ragazzi dai nove ai dodici soprattutto per i ragazzi dai nuovi dodici vengono chiamati i piccoli ragazzi del domani cioè coloro che sono tra l'età infantile e l'età quella dei ragazzi che stanno per affrontare l'adolescenza quindi è l'età più difficile è l'età anche più tosta da intrattenere all'interno dei villaggi turistici quindi c'è una ragazza o un ragazzo che creano proprio un gruppo come se fossero i teenager del villaggio ma è questa cosa è molto bella perché richiedono un'esigenza completamente diversa delle volte diventano nostri assistenti che aiuta gli animatori con gli più piccoli infatti ora in giro c'è la caccia al tesoro e vedi più grandi che tengono i più piccoli per mano altre volte invece ci dedichiamo ad esempio ai tiktok che va moltissimo coi ragazzi di quell'età ci dedichiamo alla parte quella un po' più tecnologica quindi playstation e lui cercando di limitarne l'uso però purtroppo fa parte fa parte della loro società ormai e poi tante cose che vogliono fare semplicemente stare seduti ok sotto un albero sotto una pineta e parlare e chiacchierare è quello per loro quella è la parte fondamentale sentirsi parte di un gruppo e questo è quello che facciamo con i miei a tempo che bello che bello e quindi principalmente facciamo questo con i bambini poi c'è tutta la parte dedicata ai teenager che è dai 13 ai 17 anni quella parte lì la dedichiamo la parte sportiva e anche soprattutto ai tornei notturna cioè i tornei notturna e lo sport di notte soprattutto nei tempi di ora con la quarantena e la pandemia che sono stati molto fermi hanno voglia di sfrugarsi e questo è soprattutto la sera quando ci sono i bali di gruppo ok i bali di gruppo vi hanno già un momento per socializzare anche con persone che non conoscono noi e crearsi il loro amico della vacanza poi per questa fascia per la fascia d'età quella più precedente tipo junior anche 8-12 c'è anche la scuola calcio quindi c'è un istruttore di scuola calcio che li allena e li tiene nel campo un'oretta al giorno e questo è effettivamente quello che facciamo per le fasce d'età più giovani poi invece c'è la fascia di adulti che tendenzialmente sono genitori dei bambini quindi io ragiono così quando i bambini stanno bene i genitori hanno la possibilità di divertirsi e rilassarsi anche insieme agli animatori se questo non succede il bambino diventa un po' un problema o comunque più che un problema qualcosa a cui badare quindi il genitore non ha il tempo per dedicarsi al divertimento dedichiamo la parte fitness quindi tutto dall'acqua gym a una nuova attività che si chiama gajara che è un allenamento composto da tre step che sono workout aerobica e ballato quindi parte coreografica e poi abbiamo anche tutta la parte dello yoga del rilassamento del corpo e del risveglio muscolare e ce l'ha fatta fare tutto questo nell'arco delle 24 ore la domanda tipica che mi fanno è ma voi quando dormite diciamo che di notte tendenzialmente noi proviamo quello che facciamo di giorno e di sera sul palco la maggior parte degli animatori che trovate nei villaggi non sono né ballerini a meno che sei nei grandissimi villaggi turistici dove c'è una compagna di ballo però la maggior parte di loro sono la prima esperienza e per noi ciò che conta è l'approccio che gli animatori hanno a livello umano prima cosa importante è quello che fa anche avvicinare le persone e ti dà modo poi di fare determinate cose con le persone qui siamo in 13 di cui 12 animatori uno che è più piccolino ha 16 anni che essendo il figlio del titolare è cresciuto con l'animazione è con noi e si dedica all'animazione esattamente come gli altri e quindi si diverte e fa questo lavoro come se fosse l'uno in più siamo in 13 ognuno ha il suo ruolo ha il suo compito la sera siamo tutti sul palco e la cosa bella di questo posto è che la sera arriviamo anche a fare dalle tre alle cinque serate in contemporanea perché cerchiamo di fare un divertimento personalizzato in base all'età quindi c'è la serata per adulti e se i bimbi si annoiano portiamo i bambini al mini club e li teniamo di notte finendo un paio d'ore lì allo stesso tempo in contemporanea cioè ci sono i tornei per i ragazzi o la serata per i ragazzi ecco cerchiamo in qualche modo di specializzare e dividere il divertimento un tempo non era così un tempo ti cercavi l'assembramento ma non in termini di copi del tempo tu cercavi il divertimento che era uguale per tutti ora non è più coschi ora è più difficile intertenere ai bambini ai ragazzi quindi cerchiamo di sfruttare il numerico degli animatori per posizionarli in diverse parti del villaggio e intrattenere diverse ed è bellissimo e devo dire che vi riesce anche vero grazie te lo dico sia da cliente diciamo del papasole che da professionista anch'io grazie siete veramente molto bravi quindi venite al papasole perché troverete un animazione eccezionale ciao amici grazie di lavoro grazie a tutti